La Lazio con molte riserve affronta a Torino la Juventus campione d'Italia. Il successo dei bianconero è scontato in partenza. Cervato apre la segnatura con un rigore. La situazione dei laziali si aggrava con questa autorete di un difensore. L'immancabile gol di Charles sigla il bottino 3-0 per la Juve.